erano già sposati in comune convivevano e io ho detto quando mi fatti direttare non mi ha detto di loro tre volte e ultimamente credo da parte degli amici suoi che ci stavano pensato avere una rete invece è andato così spero che lo prendono non è uno che si lascia io sono uno che mi emoziona ma dopo il resto si è fatto un'idea di quello che è successo su chi dovete parlare? no perché non lo so lei si è fatto un'idea di quello che è successo? chi può aver ucciso questa ragazza così bella brava? l'hanno accontellata di proposito per me ha fatto qualche avanzo a qualcuno qualcuno ha fatto avanzo a lei? sì credo sono cose che penso io perché al bar dove andava andava a fare colazione dietologo gli ha detto di fare un po' dei ginnati e allora la sera usciva e è entrata a quei bar lì anche la musica a ballare per me qualcuno l'ha affiancata ma che lei si è andata a quel bar quella sera è sicura? non lo so no quello che hanno detto ha intervistato il bar che andava là quella sera lì non lo so se è andata là grazie a tutti grazie a tutti